e come sta acazzato questo patente e lo vazzolo di tu meglio e venuta a me sta attaccato poi faccio l'inchiorata sta attento fermate che non corri corri porco per me porca maia due che cazzo fai che cazzo fai porco due che cazzo fai o te supera oh no no io me nascondo no io me nascondo che cazzo fai ho il cazzo duro amore avevi proprio la puzza di fratella de sborro che schifo ma che dici ma quando mai ma non può essere possibile amore si vede che ha fermentato dentro la bocca ma che dici ma che schifo ma che cazzo dici è normale se non te lavi la bocca dopo un po' diventa smegman oh dio ma io sento ancora puzza ma fiata no non è qua è l'amore ma chi è chi è hai sentito? allora multigiocatore l'ultima volta ci hanno bannato cercheremmo di non farci bannare si lagga tutta la faccia che l'ha sistemato sta cosa eeeeeee ooo ma partono hello hola hola can you hear me man? ehi ehi ehh ehi ehhh ehi 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 sotto le zambe uuuuh ehi ehi ehis perto dio ma prima ho staccato più che altro perché stavo depresso per quel motivo lì ho staccato preferito staccare e riprendermi Tornare in live bello carico, bello pimpante, bello forte più di prima ragazzi Però il postino era tutt'altro tipo di lavoro, era un'altra cosa Ciao Io solo una cosa voglio sapere Ma tu che cazzo sei? Il biglietto Ah no Che cazzo è? Cazzo dietro, il portafoglio Oh my god, non puoi stare a scoccio 13.30 Ma i coglioni Cazzo è tanto? 15.30 Cazzo è tanto? E' fortunato lei che paga poco E' un po' di canzone quali artiche ogni tanto ci sta Allora, vorresti pure abbassare un po' che si Eh lo so, ciao grazie C'abbiamo Calandron, l'indistruttibile che è una carta de merda penso di levarla Perché mi serve, no forse mi può servire ragazzi Che dite la tengo meno Una mano un po' stoppacciosa all'inizio però E ora l'entrata del campione mondiale dei dilettanti Matteo che si Oddio porco di Dio Madonna che Dio porco di Dio Che dolore porco di Dio Mi sono fatto male porco di Dio Porco di Dio mi sono scortegato la mano Oh che dolore Ragazzi io non so che cazzo fai da mangiare la gaia Latte e biscotti Allora vado a prendere un po' di latte e arrivo Ma come si fanno le crepe? Le crepe raga Come si fanno le crepe? Con le uova? Amore non c'ho le uova Ma come cazzo ho contatto con lei Amore Non ho le uova Gaia Non ho le uova Come faccio? Me senti? Cazzo si andrà pure in bagno a fare la cacca Vicine fosse biologiche Basta cattivi odori Mamma mia Che puzza di merda qua Grazie mille dei 3 euro Grazie mille Simone Una canzoncina di compleanno? Ok Tanti auguri a te Tanti auguri a Simone No non mi ricordo come cazzo fa però Non mi ricordo come fa sta canzone E porco iddio Ma dai cazzo ma me l'avevo colpito Me l'avevo colpito dai Ma io sono mirato sulla destra E passato una destra Una sinistra E uno Uno gli è passato sulla destra Gli è andato sulla destra Non so Mi sono colpito sulla destra E passato da parte a parte E non gli è fatto male Gli è andato sulla destra Non so Mi sono colpito sulla destra E passato Non so ammazzato Io mi cago il cazzo A portare sto cazzo di gioco Però devo farlo Ho firmato un cazzo di contratto E me l'hanno messa nel culo Magari me sentono E se me sentono Non me ne fotto un cazzo Anzi Sapete che gli dico? Che quel cazzo dei pacchetti Non è giusto che li compro Porco di Dio Non è giusto Mi li dovete dare voi I vostri pacchetti di merda I vostro account di merda No che io 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 devo spendere 190 euro Per farmi un porco di Dio Di deck Eh vabbè Figa Spendi 15-20 euro E te lo fai un deck Decc Ma la fango Magna me l'ucazzo Porco di Dio E grazie mille Forza KS 3 euro Grazie mille Forza KS Un bacione enorme Bello mio Grazie mille Grazie mille Forza KS 3 euro Grazie mille Noi sempre Siamo di scolastico Ma c'è roba di pollo? Certo Roba di pollo Roba di mucca Ruba dito Perché c'ho il colesterolo alto Se c'è qualcosa di salutare No Quello no Ma tanto presto Ti tiro Ci sta l'olio? Il burro? Lì dentro qua? Eh No Ah dentro non ci sta il burro? No No Olio? No Vabbè allora Vabbè prendo una porzione Dai Eh che te racconto Niente Mi sono lasciato Oggi Con chi? Sei la mandata con qualcuno? No 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 Ma che è mandata con noi? Pani ti riscalda un po'? Sì Ma è pane? Pane con olio? Qual è olio? Pane? Eh no Perché ho olio e burro E io non posso mangiarlo No Non ci sta niente E com'è fatto il pane? Pane? Olio Farina Quindi l'olio c'è? L'olio c'è? No Hai detto olio Io ti dico Farina Sale E basta Ah ok Hai mandato a fanculo o no? Devo la prendere? No 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 Che la devo mandare a fanculo? Eh cipolla Eh cipolla? Eh no 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 Cipolla no Perché dopo mi puzza il fiato Domani devo uscire con una ragazza Quindi Un po' d'olive? No no Ci sta l'olio dentro l'olive Ma quale è olio? Porca miseria Ah non so se c'ho risorti però Dove sta il bangomat? Di fronte Di fronte? Arrivo Voi che cosa pensate di chi fa stream YouTube e tutto? Twitch e Instagram e tutto? Che pensate? Voi pensate? Orco Dio no Viandge Viandee